Doug, si sente bene? Sì, è senza forze perché non ha mangiato abbastanza a colazione, ha fame! Davvero? Sì, ma non preoccuparti, Dougie ha il suo... distintivo della colazione! Andiamo in cucina, Lupetti! È... L'ora della colazione! Oh, off, off! Dougie può prepararti tutto quello che vuoi, Doug! Oh... Beh, mio padre mi ha preparato i cereali questa mattina, proprio come piacciono a me! Fino a qui, papà, grazie! No, un pochino di più, un po' di più, ancora un po', un altro po', ancora, 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 sì, così! Ancora un po', grazie! Ancora un pochino, ancora un altro po', ancora un po', ancora, ancora, ancora... I cereali mi danno tanta energia! Vedete? A me piacciono i pancakes a colazione, sono i miei preferiti! La mia mamma mescola il latte, le uova, la farina e poi mette tutto dentro una padella e li cucina! La parte che mi piace di più è quando li fa saltare in padella! Li manda tanto, tanto in alto! Sapete? Mio nonno prepara le aringhe per colazione! Davvero belle grandi! Ma le aringhe! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Un Dougie abbraccio! Dougie abbraccio! Dio qu'o ffolio! Sì! Nowherei si dev'è veniva l不能 gu Pacifico! Dov'è veniva l'abbraccio! Voy lo debe lance in bicola a lì rollo! Danilo a poi aver riportato lì lo stesso tempo alle ringrazimo! А buonan Faster! La fleccia diague!